Nuovo giorno metà settimanale di GTA 5 Online, valido dal 31 di ottobre al 7 di novembre. Il veicolo appaio al casino questa settimana alla dinka su guoi, mentre per i veicoli in esposizione al concessionario di lusso abbiamo la Comet Safari e la Ardent, mentre per la corsa premia abbiamo la Gauntlet Classic, top 5 nelle gare lo Santo Scarmitte per due giorni di fila. E nello showroom di Simon troviamo la BF Wevil, l'Albany Lurcher, l'Albany Frankenstage, l'Enus Super Diamond e il Declasse Tornato Rat Road. E per finire i veicoli bersagli ad rubare disponibili verso la rimozione abbiamo la Tundra Pantere, la Lampadati Viserys e l'Albany Brigham. Due perra TV su giorno del giudizio, quattro perra per i membri di GTA Plus, sopravvivenza aliena e la vendita agli spacciatori di strada. Come nelle precedenti settimane sconto del 100% sui tatuaggi con i teschi e le pitture per il viso con teschi di zucchero. Sconto al 30% sull'Albany Lurcher, l'Albany Brigham, l'Albany Frankenstage, la Declasse Tornato Rat Road, l'LCC Sanctus, la Chariot Romeo Airs, la Verner HKR, la Tropos Rally e la BF Wevil. La sfida di questa settimana è vincere due modalità competizioni per ricevere la maschera arancione da teschi fiammeggiante e 100.000 dollari. Per questo video aggiornamento settimanale è tutto, vi invito a lasciare un follow.